Il problema di questo tipo di strumento è legato alla valutazione che viene fatta delle performance, soprattutto per quanto riguarda la misurazione delle attività pubbliche, perché se il Ministero o comunque gli organismi deputati alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi si concentrano in maniera quasi esclusiva sul raggiungimento degli obiettivi economici e quindi di spesa, senza considerare quello che è l'impatto sulla società e quindi considerando solo il budget che è stato posto e non tutti i fattori della produzione necessari per arrivare a quel risultato, allora l'HTA a mio avviso troverà grande difficoltà a evolversi e a trovare fondamento soprattutto nella struttura pubblica, anche perché la struttura pubblica è molto e riottosa al cambiamento, ha subito a partire dagli anni 90 fino ad oggi tutta una serie di tempeste informative, perché io così le chiamo, di utilizzazioni di strumenti soprattutto di origine anglosassone che non sono stati calati a mio avviso adeguatamente nella realtà locale e quindi vengono vissuti come l'ennesimo strumentino economico che viene utilizzato senza capire qual è la sua funzione all'interno del sistema in generale. La Regione Sardegna vive in questo momento un probabile cambiamento storico epocale, perché in Consiglio regionale è in discussione una legge che prevede la rivisitazione dell'organizzazione del sistema nel suo insieme, individuando dei soggetti erogatori e dei soggetti committenti e all'interno di questa organizzazione verrà ad esistere anche un'agenzia regionale per la sanità e una macro area che si occuperà di tutte le attività amministrative. In questi giorni il Presidente della Regione con il suo decreto ha nominato il nuovo direttore dell'agenzia che a breve verrà contratualizzato e io suppongo e mi auspico che l'agenzia si possa occupare a livello regionale di quelle che sono le attività legate a questo così importante sistema. Ritengo che possa essere quello la sede e il luogo dove utilizzare questo strumento come strumento regionale che possa permettere a coloro i quali devono prendere le decisioni di poter decidere avendo contezza di quello che fanno, perché probabilmente solo in quella sede ci può essere le condizioni infrastrutturali e anche le competenze individuali che sono particolarmente specifiche necessarie per poter risolvere i problemi che vengono a essere affrontati con questo strumento. Inoltre potrebbe essere anche la sede, dato che ha un livello sovra-aziendale, che permette di condividere i risultati, le informazioni che i diversi gruppi di lavoro, probabilmente aziendali o interaziendali, quello che si deciderà di fare con tutti coloro i quali hanno necessità di accedere a queste informazioni.